Aveva un dato stesso tempo per il presidio, aveva stato un'animo di... Poi non dite, ti dici il suo appartamento, perché è un'amministrazione di russi. E' un'amministrazione di russi. E' un'amministrazione di russi. Ma beh, non c'è problema. Consigliere di russi. C'è un'amministrazione di russi. Ma non è vero che ci deve dire così, adesso. Ecco. Che le vetture sono abbastanza complesse. Guardiamo ancora un'ottima decina di russi del Consiglio Comunale. Quando sono concentrati alle numeri strani sui dati. Quando è concentrati alle numeri strani anche sulla maresa di numeri dei giorni. E questo è il passato. Si è passato. Attentativo. Disstrumentalizzato. Cioè, un lavoro fatto di condizione consigliare. Utilizzato, a mio modo di vedere, degli argomenti che appartengono di... C'è un sito di archeologia comunale. Cercato di dimostrare che se l'emendamento viene inviato. Si delicitima. Il lavoro del... Il lavoro... Si cercato. Non attraverso Giorgio Coppietti. Si delicitima il lavoro del presidente della commissora. Si delicitima il lavoro del commissario nazionale. Si delicitima il lavoro del presidente della commissora. Si delicitima il lavoro del presidente della commissora. Si delicitima il lavoro del presidente. Si delicitima il lavoro del presidente della commissora. Si delicitima il lavoro del presidente della commissora. E se avviene il rinanzamento all'indio dell'ordine del giorno a mezzo, cioè per il piano, la maggioranza che ci accorgerà di questa demanda, con cui ci voglio approfondire, che intende di proposta decrescita, ma veramente proposta decrescita, perché questo è un'idea di idealizzare una versione di finanziamento in fede di accettamento. E' ideata contra l'avanzismo, i presidenti della Commissione, che firmò politicamente la faccia di rinanzamento economico, rispondirebbe da iniziare a non fare rispondere a tutti i ministri della Commissione, ma è proprio il mio caso, perché si è discusso, si è riferito. Ma ora, ci torniamo al fino al punto precedente, il frumito, il frumito, il frumito, il frumito è la vostra parte, che il frumito dice che questo non è il frumito a mezzo a parte strada e in una stacentità di direzione, Da un momento dopo diceva, ma io lo faccio cercare di un nemico, dove il nemico e il nemico vuole accetturlo, se il nemico non si è comunale a quello di un nemico, il consiglio è falso, potrebbe portare la pratica dei, che un realizzamento al bianco pensa a parlarsi sulla reazione dei capitolisti di bianco. Cioè qui parla di capitoli di finanzo evidente, che è una cosa del genere, non è orientato al finanzo, ma è la proposta che faceva, e che ci ha fatto vedere più cose che conosciamo, e che sovrapparizzate tutto quanto è organizzato nelle cazzini della Commissione Biancio, la proposta del pulsare che ho fatto è la pariomica di un'idea. E poi fatto, si fa 10 anni, con questo capitolo. C'è qualcosa che non si capire, dal mio porto al mio porto al mio porto al mio porto al mio porto a Milena, il quale porto, a parte della sua esperienza, ha riflesso, ha riflesso tutta la pratica che dice, la definizione invece non sarà un'attività, è, premesso che non voi non ci farei capire, perché ci si ha detto che c'è un soggetto, che è un ammoccio dell'aggiunta comunale, questo dal punto di vista dell'opera che è portato, ma dal punto di vista della società, c'è una ragione per cui non sono soliti i termini dimenticati. Non mi va a sconcare, perché riguardo da aspetti specifici della gestione, se vede, come se ne dico che è, diviare la funzione e la conoscenza della propria patria, che è iniziale. Quello che tu fai, un altro quanto previsto dall'attività, con l'attività del presso unico, è quello di concorrere a programmare. Secondo quanto previsto dall'attività di 164, 165, 165, 165, quella con idee, progetti, condizioni, e la conoscenza, così forti o coordinato da Grincenze, è formato da tiri e disfunzioni, servizi e interventi. I capitoli non c'entrano alcuni dei, per assurdo fare la proposta dell'estamento, dove si utilizzano, nell'ambito della condizione delle strade, addirittura delle strade. Lo vostro capire da distanza prima dell'esperienza, ma del fatto che viva da 10 anni, è l'idea che possa strumentalizzare, non può arrivare al strutturismo. Pensando che non è un strutturismo, stai di strutturare strumentalizzare, non può arrivare al strutturismo. Quello che abbiamo cercato, quando abbiamo capito, da 6 anni, dove si utilizzano le strade, non lo piacerebbe cattura di natura. C'è chi fa cambiare, che è disposte di lavorare un momento per riuscire e in urmio, ovviamente voi vedevi stare con la ragazza delle strade. Si chiuderebbe tantissime per riuscire le strade. Grazie. 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 Grazie.